Successo per la 45esima edizione della mostra dell'artigianato a barcare le porte del polo l'Ario Fiere di Erba sono stati oltre 40.000 visitatori. Ad animare i nove giorni di manifestazione 160 espositori e oltre 100 eventi. Tra i momenti più apprezzati gli incontri con le rappresentanze estere come il Focus Russia e le opportunità offerte ai giovani delle scuole che hanno visto e vissuto da vicino cosa significa essere artigiani. L'eccellenza artigiana delle botteghe è e dovrà essere una fonte di ispirazione per le generazioni future spiega Elisabetta Maccioni, presidente del comitato. In questa nove giorni dedicata al sistema artigiano abbiamo intrecciato nuovi rapporti e avvicinato sempre più il mondo della scuola a quello dell'impresa e dal canto loro gli imprenditori hanno affiancato gli studenti per comprendere esigenze e trasferire competenze. Ieri l'assegnazione dei premi, linea Massello di Caviate e Giorgia Camice di Lecco si aggiudicano l'edizione 2018 del premio Qualità titolato a Mauro Cazzaniga. Un'edizione particolare che ha visto uno speciale tocco di femminilità visto che il comitato era costituito dalla maggior parte da donne spiega il presidente di Confartigianato Como, Marco Galimberti. Intanto gli organizzatori già guardano al futuro e sono al lavoro per l'edizione 2019.